Signor Vittorio, lei ha il suo esercizio in via Umberto I e questa è una via purtroppo dove c'è la pipì selvaggia. Com'è la situazione? Maleducazione in primis, giusto, dei padroni dei cani? Sì, giusto. In primis i padroni dei cani sono alquanto maleducati, che io dico sempre che la facciano a casa sua invece di portarle in giro. E prima di tutto ci sono dei parchi appositi che vanno inolà e poi, come lei ha visto, per la strada c'è tanta pipì, eccetera. Noi li troviamo anche sui nostri lucchetti che dopo la mattina ci tocca lavare le mani, eccetera. oltre che per il portico che a volte la gente pestano e la portano dentro. Ma oltre ai cani è vero che sono anche gli uomini, le gazzine, oletto? Sì, sì. Infatti mia figlia l'ha vista anche per le nostre riprese delle ragazzine che fanno purtroppo i suoi bisogni, oltre che anche qualche giovinastro.